Non seppe rispondere di meglio che sbottando anche in maniera violenta, disse ma signore ma che cosa vuole che venite tutti i giorni a rompere le scatole in quest'ora? Cioè sua figlia è scarpata di casa, che cosa andate trovando? E io me lo ricordo come fosse ieri, quindi mia madre è chinarsi poi a ferrare la scarpa e lanciarla con forza a quest'ora, lo prese direttamente in fronte, la scarpa arrivò a segno, quindi immaginate la reazione non solo stupita ma indopalita, tant'è che arrivarono gli agenti perché il questionario cominciò a urlare, a sbraitare, minacciò di farci arrestare, per dirvi il clima, il clima che si respirava e contro cosa dovevamo combattere, perché guardate, io non generalizzo mai e lo dico sempre, le persone, le istituzioni sono fatte di persone, purtroppo in questo paese sempre più spesso ci sono persone indegne a rappresentare le istituzioni, ne sono assolutamente convinte e ne ho avuto la riprova in tutti questi anni, sono persone mediocre, persone insensibili, persone spesso incompetenti e purtroppo molte volte persone colluse che non fanno il proprio dovere e però in questa storia forse se siamo arrivati anche, ci siamo avvicinati a una soluzione, ci sono state anche persone che hanno servito lo Stato con grande dedizione sicuramente, quindi non voglio mai generalizzare, sicuramente abbiamo subito le peggiori storture di un sistema che non è stato in grado di rispondere all'appello di una famiglia, che chiedeva semplicemente verità e giustizia per un proprio familiare. Indubbiamente quell'episodio che ricordava Gerardo è emblematico, ma di episodi non dello stesso temore, ma simili in questi anni ne abbiamo dovuti subire tanti, guardate, veramente non so, a certe volte penso anch'io come siamo arrivati fin qua in tutti questi anni, ce l'abbiamo fatta e sicuramente certo è una magra soddisfazione sapere quello che purtroppo sapevamo già quella domenica del 12 settembre, quello che ha fatto più male sicuramente è conoscere poi i particolari e penso che poi le perizie sono state su questo esaustive purtroppo, avrei voluto evitare almeno questo a mamma, purtroppo chiaramente non è stato possibile perché poi di questi dettagli se ne è impadronita immediatamente l'informazione, quindi sapere anche come è morta Elisa, colpita 14 volte, quindi è rimasta probabilmente agonizzante ancora per qualche minuto, insomma potete immaginare cosa è stato per noi, anche se è quello che purtroppo immaginavamo con la feroce, la brutalità che ormai avevamo imparato a conoscere in Danilo Vestivo, poi modalità molto simili per l'omicidio di Eder Barnett, addirittura lì ha infierito ancora di più sul cadavere consumando un rito barbaro, è stato addirittura asportato i seni e deponendoli poi di fianco al corpo, quindi forme di brutalità terribile, credo che si sarebbe potuto evitare tutto questo se solo, se solo il padre e la madre avessero dimostrato per questo ragazzo davvero amore filiale, invece che un amore distorto, cercando di coprire, cercando di nascondere, cercando di salvare il proprio figlio, ma più che il proprio figlio sono convinto che il padre abbia voluto semplicemente non accettare di avere un figlio così e salvare il proprio buon nome di persona, di notabile della città di potenza, io ne sono assolutamente convinto, perché non è amore filiale, io oggi ho una figlia, una bambina di 3 anni e mi rendo conto che l'amore filiale si esprime diversamente, quindi io credo che anche questo, le due famiglie, la famiglia Caps e la famiglia Vestivo abbiano posto la differenza tra, credo, quello che dovrebbe essere una famiglia vera, una famiglia che ama e una famiglia invece che è un esempio negativo per tutti, c'è la famiglia che nasconde, la famiglia che protegge in maniera distorta il proprio figlio. In tutta la vicenda ci sono poi quei dei pistaggi, dei pistaggi strani, la storia tende a dispostarsi addirittura fuori dell'Italia, via questa pista albanese, la presenza di questo albanese, Eris Gega, poi addirittura africana, sudamericana, tutto questo, la complicità e quantomeno la presenza di personaggi molto equivoci dal PM, dal giudice genovese, anche alla presenza di questo avvocato Marinelli, una parte tu descrivi bene il momento in cui vi è la sentenza nei confronti di Danilo Restivo, voi eravate lì, eravate quasi per caso ad assistere a quel momento e vi trovate l'avvocato che si rivolge a tua madre e dice, ma ancora qua, pure qua ti devo trovare, ma cosa vuoi ancora da me? Quasi come se questa vicenda fosse privata da un punto e indipendentemente da tutto, come se voi non dovesse riguardare. Ecco, vi sono tutte queste storie, queste storie un po' inquietanti che avvengono in una città che è come potenza, che è capoluogo di una regione che fino a pochi anni fa pensavamo tutti fosse un'isola felice. Beh, Giorno, è quello che hanno insistentemente voluto far credere in tutti questi anni, cioè che in questa regione è tutto sotto controllo, è tutto sotto controllo sicuramente, c'è un controllo capillare del potere in questa regione, su questo non ci sono dubbi, ho avuto modo di scontrarmi, ci sono commissioni incredibili e questa storia credo che sia emblematica e come diceva Don Marcello, nella tragedia di questa vicenda forse uno dei lati positivi è difficile trovarne, vi assicuro, però uno dei lati positivi è che forse Lisa ha fatto scoperchiare veramente una realtà che era stata tenuta celata per tutti questi anni. Voglio ricordare che ci sono tantissimi casi ancora irrisorti nella nostra regione e spesso si percepisce la mancanza di volontà di arrivare a una verità, perché evidentemente dietro queste verità ci sono affari sporchi, perché probabilmente ci sono intrecci che nessuno vuole che vengano a galla e questa sensazione è stata forte in tutti questi anni, nelle battaglie che abbiamo fatto, perché come vi dicevo sicuramente c'è una parte di verità è venuta fuori, ma c'è una parte che è quella che riguarda proprio le complicità, le omissioni di questa vicenda che deve ancora emergere e se qualcuno, come sono sicuro, ha pensato e ha sperato che il funerale di Lisa a luglio sia una sorta di pacificazione, una pietra tombale su questa vicenda, ha fatto male ai conti sicuramente, perché noi chiediamo sicuramente ragione di questi 18 anni, perché lo ripeto sempre, se è vero che Elisa ci è stata strappata 18 anni fa ormai, in quel maledetto giorno, però questi lunghi anni ci sono stati regalati da qualcuno, vi assicuro che sono stati anni di inferno, non è stato semplice cercare di condurre una vita normale, una vita normale non ce l'abbiamo più avuta e non come non l'abbiamo più adesso e in questa storia, nel cammino, nel filo di questa storia, le omissioni, i depistaggi si percepiscono, sono evidenti, nei momenti topici di questa vicenda, quando noi puntavamo con maggior forza il dito su Danilo Restivo, arrivava sempre qualcosa che portava lontano, sarebbe impossibile raccontarvi di tutti, quella alla pista albanese probabilmente è quella che conoscete di più, perché è quella che ha avuto poi anche più eco sulla stampa, per mesi ci hanno fatto credere che Elisa fosse in Albania, dal primo momento avevo intuito che non poteva essere, già dalla dinamica con cui ci avevano raccontato questa storia e c'è che addirittura, dovete pensare che eravamo nel 1993, erano gli anni in cui arrivavano le ondate proprio degli albanesi in Italia e quindi era folle pensare che una ragazza ricercata in tutta Italia facesse il percorso inverso, cioè che dall'Italia andasse in Albania, non era assolutamente credibile una cosa del genere, eppure riuscirono con grande abilità a far perdere mesi e mesi preziosi di indagine, spostando addirittura le forze di polizia, l'Interpol, chi l'ha visto, Franco De Chiara che ricordo nel libro uno dei primi registi di chi l'ha visto, che seguì la storia, pensate partì e arrivò su indicazione di un stimatissimo avvocato di Potenza, io i nomi li faccio tutti, li faccio nel libro, ma li faccio sempre pubblicamente, Pier Vito Bardi, che probabilmente ricordate è stato anche Presidente del Potenza Calcio, che appellandosi a fonti confidenziali disse di avere avuto notizia della certezza, della presenza di Elisa in un paese credo vicino a Giro Castro, che era praticamente all'interno, non c'era nemmeno una strada asfaltata per poterci arrivare, ed era quasi al confine con la Grecia, e chiamò chi l'ha visto, ebbe il suo momento di platea, di notorietà praticamente, lui e Sergio Lapenna erano nello studio insieme, Sergio Lapenna ancora attualmente avvocato, è stato anche consigliere regionale in Basilicata, di questa cosa, perfino oltre l'interpollando anche la troppo di chi l'ha visto, e vi assicuro che per arrivare in questo paese, strade polverose, quando arrivarono in un paese di appena 300 anime, quando chiesero ai pochi abitanti notizie con la fotografia di Elisa, quelli gli risposero se ci fosse stato anche un solo straniero in questo paese, nel giro di 3 minuti l'avremmo saputo tutti, quindi di questa cosa nessuno chiese mai conto a queste persone, depistarono in maniera evidente, lo dico nel libro, raccontarono questa cosa e io chiesi alla Genovese, il magistrato che indagava, che provvedimenti intendesse prendere nei confronti di questi due avvocati, che avevano in maniera così palese, così evidente, depistato le indagini, perché queste fonti convidenziali a cui loro avevano fatto riferimento, in realtà poi non le tirarono più fuori, inventarono di sana pianta questa storia, per dirvi, ma questo fu soltanto uno degli episodi, se vi racconto, probabilmente lo sapete, quello che fece Danilo Restivo, lui fu tenuto lontano da Potenza subito, nei primi anni, il padre lo allontanò immediatamente e gli fece girare mezzo Italia, chiaramente, per tenerlo lontano della Potenza, perché aveva capito che il figlio non poteva essere tenuto sotto controllo, io sono convinto, ma di questo ne sono certissimo, che il padre abbia saputo dell'omicidio di Elisa pochi minuti dopo, se non mezz'ora dopo che il fatto fosse avvenuto, ne sono certo, e ha tenuto lontano il figlio per tutti questi anni, poi lui fu indagato dalla Genovese per false dichiarazioni e il processo per false dichiarazioni, nel libro lo dico in maniera anche molto chiara, fu un processo che secondo me fu in qualche maniera istruito semplicemente per darci un contentino, perché noi chiaramente premevamo nei confronti di Danilo Restivo, e l'imputazione che volevamo noi, come potete immaginare, era quella per omicidio, invece fu indagato per false dichiarazioni, perché erano talmente evidenti le menzogne che lui raccontava rispetto alla ricostruzione di quella giornata, che non si poteva fare a meno quantomeno di indagarlo perché raccontava menzogne su questa vicenda. Lui fu condannato per false dichiarazioni, tra l'altro ebbe una condanna esemplare da parte della Corte, due anni e otto mesi, che se si fa una ricerca, credo che nessuno in Italia sia stato condannato a due anni e otto mesi per false dichiarazioni, tra l'altro è un reato che è stato anche depenalizzato, non esiste nemmeno più il reato proprio di false dichiarazioni APM, per cui questo passaggio qui, quando lui poi fu condannato, in esecuzione della sentenza fu assegnato ai servizi sociali, naturalmente non la scontò in carcere, non appena rientrò a Potenza in esecuzione della contanna, perché arrivò in terzo grado in Cassazione, quindi diventò esecutiva la contanna, dovete rientrare a Potenza, la prima cosa il giorno dopo che fece, rientrando a Potenza, dovete immaginare che fece questo. Io avevo fatto fare un sito in cui era possibile lasciare in maniera anonima, in forma anonima, delle notizie e informazioni su Edisa. L'amico che me l'aveva costruito, che era un informatico, un pomeriggio mi telefono allarmato e mi dice, Gildo guarda è appena arrivata una mail di una persona che dice di essere Edisa, dice sono in Brasile, sto bene, non cercatemi, state tranquilli, è tutto a posto. Lui che era un informatico mi disse, guarda l'unico problema è che la mail non arriva dal Brasile, ma arriva da Potenza, e chiaramente io capì subito che era un depistaggio evidente. Lui mi disse addirittura il posto da cui era partita, che era una sala internet con delle postazioni a cui era possibile collegarsi, si chiamava il Tati Club, lui mi disse, mi chiede addirittura l'indicazione, siccome la mail era partita da meno di 20 minuti, immaginate io mi precipitai immediatamente in questa sala giochi, nella speranza di trovare la persona che aveva mandato la mail. Quando arrivai la sala era deserta, chiesi nemmeno troppo gentilmente alla titolare di dirmi chi era collegato a quella postazione, dopo le prime rimostranze riuscì a convincerla a tirare fuori il registro, perché non so se è ancora così, ma all'epoca se volevi collegarti da una postazione pubblica dovevi lasciare un documento, immaginate quando aprì il registro la mia sorpresa leggendo il nome, Danilo Restivo, lui la prima cosa che aveva fatto rientrando a Potenza era stata quella di collegarsi sia sul sito di chi l'ha visto alla pagina di Elisa e sia a questo sito che aveva nel frattempo trovato con i motori di ricerca e inviare questa mail spacciandosi per Elisa dicendo sto bene, immaginate che io immediatamente chiamai la polizia, feci sequestrare il computer da cui era partita l'e-mail, controllarono ovviamente i dati che il computer aveva registrato, lui aveva fatto ossessivamente ricerche su Elisa e sulla scomparsa su vari siti pornografici e nonostante questo praticamente l'indagine dieci giorni dopo venne archiviata, stiamo parlando del 1999, quindi immaginate la rabbia man mano che noi scoprivamo sempre più elementi, quell'episodio che ricordava Gerardo, ripeto dovremmo stare non una serata ma una giornata intera per raccontarvi 18 anni, però quell'episodio a cui faceva riferimento Gerardo, quello in cui casualmente noi ci troviamo, mentre Danilo immaginate era processato per false dichiarazioni rispetto alla scomparsa di Elisa, del tutto casualmente perché nessuno ce l'aveva detto, negli stessi giorni lui veniva processato appena un piano sotto per il reato di minacce e molestie, però dovete adesso capire di che minacce e molestie si trattavano, allora sei mesi prima della scomparsa di Elisa, quindi questi erano elementi già in possesso delle autorità inquirenti, lui era stato sorpreso a minacciare, l'aveva fatto per mesi interi, queste studentesse universitarie che abitavano praticamente nel palazzo di fronte al suo, lui con un potente cannocchiale riusciva a spiarle, era riuscito a procurarsi il loro numero di telefono e telefonava ossessivamente a queste ragazze, descrivendo come erano vestite, quindi loro avevano capito che addirittura riusciva a guardarle, quando erano in bagno, quindi immaginate anche particolari scabrosi e la cosa allucinante era che oltre alle molestie, lui di sottopondo a queste ragazze metteva ossessivamente due pezzi musicali, per Elisa di Beethoven e Profondo Rosso, infatti dovete sapere che con Federica siamo stati indecisi fino all'ultimo, perché per Elisa è il titolo del libro ed era, ci tenevo, era un omaggio ad Elisa e lo volevo proprio chiamare per Elisa. Federica mi ha detto, Gildo però per Elisa è quella canzone che utilizzava quel pazzo, gli ho detto guarda Federico non importa, io credo che è giusto dare un omaggio e un tributo ad Elisa e quindi chiamiamolo lo stesso per Elisa, non importa, però per farvi capire, noi lo scoprimmo per tutto casualmente che lui veniva processato in quel momento anche per molestie e minacce, addirittura aveva fatto artigianalmente un tacco bomba che esplodeva, nel libro sono addirittura riportate alcune lettere che lui scriveva a queste ragazze, quindi oltre alle telefonate scriveva anche delle lettere e chiaramente si interpretava diversi personaggi, non era mai lo stesso personaggio, ne interpretava diversi, quindi si andava dal ragazzo che scriveva la lettera d'amore, al ragazzo che molestava sessualmente, quindi immaginate com'era complessa la personalità di questo ragazzo e queste erano informazioni che erano in possesso, quell'episodio a cui si riferisce Gerardo e quando noi scopriamo questa cosa e l'Avvocato Marinelli, istrionico avvocato che tutti voi avete avuto modo di conoscere nelle sue memorabili arringhe difensive durante il processo per false dichiarazioni, ci vide improvvisamente lì, non se l'aspettava ovviamente perché era una cosa che avevano tenuto nascosta e non pensavano che l'incrociassi e si rivolse a mamma, non ricordo ancora, in una maniera quasi con una cattiveria, gli disse ma che cosa vuoi, anche qui, ma che ci fai qui? Mi ricordo che mamma gli disse queste parole, gli disse Avvocato Marinelli io mi auguro, me lo auguro che lei non debba mai patire quello che sto patendo io, lei ha una figlia, ha detto io mi auguro che lei non debba mai sopportare la tragedia che sto vivendo io, non c'è stata nemmeno un minimo di umanità da parte di questi personaggi, infatti io lo racconto, quando scoprimmo quel 17 marzo, poi ci arriviamo, il cadavere di Elisa o quello che restava di Elisa nella Chiesa della Trinità, incrociai Marinelli e provai pietà, provai pietà per un uomo che non era capace di provare pietà, mi incrociò il mio sguardo e il suo volto rimase beffardo, come se la cosa non lo interessava, come se lui fosse così calato nel ruolo di avvocato difensore da non provare nemmeno un minimo di pena e di pietà per quei poveri resti che erano rimasti gettati in un angolo di una Chiesa per 17 anni, questa è una cosa straziante, vedere un uomo che non è capace di provare un minimo di pietà è una cosa che vi assicuro di dilania da questo punto di vista, perché non si ritiene possibile, cioè che non ci sia una scintilla di umanità in una persona nemmeno di fronte a una tragedia così grande. La storia procede, è molto importante l'azione della televisione, chi l'ha visto gioca un ruolo fondamentale, ma poi arriviamo al 17 marzo e diventa ancora più straordinaria la notizia, il momento e il luogo in cui viene trovato il corpo della povera Elisa, in una Chiesa, nella Chiesa della Santissima Trinità Potenza. Quando hai ricevuto questa notizia e chi te l'ha data? Che cosa hai provato? Quali sono stati i sentimenti che ti hanno attraversato? Un altro ricordo forte di questi anni. Rientravo da Napoli, ero andato a Napoli per lavoro, ero sull'autostrada e mi arriva intorno a mezzogiorno, mezzogiorno in quarto, la prima telefonata da parte di un amico giornalista, Fabio Amendolara, che mi dice ma dove sei? Dico guarda sono fuori potenza, sto rientrando. Dico perché? Dico no ma sai c'è un po' di movimento davanti alla Chiesa della Trinità, ho visto un po' di polizia. Voi immaginate insomma questa Chiesa, come ricordavo, aveva fatto da sfondo sinistro a questa vicenda dal primo momento, quindi immediatamente mi misi in allarme. Io poi l'ho scoperto dopo, Fabio aveva già saputo, però non, siccome avevo detto che ero in macchina, stavo guidando, non è bel coraggio di dirmelo. Io immaginai, siccome c'erano stati, nemmeno qualche mese prima, alcuni sopralluoghi nella Chiesa, perché la Chiesa comunque è stata un perno di questa vicenda, anche se poi qualcuno deve spiegarmi perché in 17 anni nessuno è andato a guardare nel sottotetto, questo è diciamo uno dei misteri di questa vicenda. Però liquidai la cosa insomma come, anche se insomma il dubbio mi si era insinuato. Dopo nemmeno tre minuti mi chiama Don Marcello e mi dice dove sei? Dico, la domanda di Rito oggi, dico sei il secondo che me lo chiede? Dico sto rientrando, sono fuori potenza. Lui mi chiede stai guidando? Dico sì, dice puoi accostare a una piazzola? E lì ho avuto la sensazione che si trattava di Elisa, insomma. Mi fermai alla piazzola e Marcello mi disse l'hanno trovata. Me l'aspettavo insomma, però non avrei mai pensato che era esattamente dove tutti pensavano che fosse, ma nessuno aveva mai guardato. Mi chiesi subito dov'era? E lui mi disse no, nel sottotetto della chiesa alla Trinità. E in quel momento ho rivissuto insieme tutti questi anni come in un flash. Da quella domenica l'ho rivista uscire di casa, lasciare la casa, la porta che si chiudeva. Ho ripercorso gli anni che poi ho ripercorso nel libro. E poi esplosa la rabbia, la rabbia infinita, perché era quello che avevamo sempre saputo in fondo, che era stato Danilo Restivo, che Elisa non aveva mai lasciato la Trinità. E quindi la rabbia che in tutti questi anni nessuno era andato a guardare in quella chiesa, il posto dove per primi si sarebbe dovuto guardare, cioè quella chiesa doveva essere rimoltata come un calzino. Nell'immediatezza invece nessuno l'aveva mai fatto. Ed è stato poi il viaggio di ritorno, poi il destino strano, in questa vicenda spesso si intrecciano i destini. Chiaramente il telefono poi, come potete immaginare, cominciò ad impazzire, mi cominciò ad squillare, non rispondevo più. Non riuscivo a… perché la mia prima preoccupazione era quella per mamma, perché era solo a casa e quindi ero terrorizzato che qualcuno non di famiglia le desse la notizia. Lo racconto nel libro. L'unica persona a cui risposi, prima vi sai mio fratello, che poi strano scherzo del destino, mio fratello è un funzionario di polizia in servizio a Portici e lui stava rientrando da Portici, era 10 km più avanti di me. Insomma, io non sapevo nemmeno i suoi turni, perché non li conosco. Quando l'ho chiamato gli ho detto dove sei? Lui mi ha detto guarda sto rientrando dal lavoro. Mi feci dire dove era ed era 10 km più avanti di me, quindi lo scrivo nel libro. Abbiamo percorso questi anni insieme e poi la notizia ci è arrivata sulla stessa strada, a pochi km uno dall'altro. infatti poi Luciano mi disse che faccio, vi aspetto. Lui gli disse no, no, vai, corri a casa perché ho paura per mamma, che qualcuno gli dia la notizia. Poi per farvi capire la grande amicizia che ho con Federica, l'unica persona a cui risposi fu lei che era stata informata. informata e niente, le dissi ho paura per mamma, le dissi non ti preoccupate se la chiamo io e blocco il telefono. Lei rimase a telefono con mamma parlando di tutto per un'ora, fino a che mio fratello non arrivò a casa, tenendo bloccato il telefono e non riuscendo a far capire mamma che cosa era successo. Le devo molto per questo, ma non è l'unico motivo per cui ormai siamo davvero come fratello e sorella, come dice lei spesso, ed è il motivo per cui poi abbiamo voluto scriverlo insieme, perché siamo legatissime e questa storia poi ci ha unito tantissimo, perché come ricordava Gerardo, lei è arrivata, Federica, nel 2005, ma devo dare atto che forse l'unica trasmissione, anzi sicuramente l'unica trasmissione che non ha mai mollato la presa su questa vicenda è stata chi l'ha visto dal 1993, voi immaginate che la prima puntata di chi l'ha visto andò in onda il 5 ottobre del 1993 e da lì non ha mai più lasciato questa storia, credo che sia il caso di chi l'ha visto e di cui chi l'ha visto si è occupato di più, ho fatto il conto, credo che abbia fatto qualcosa come quasi 100 puntate su Edisa, quindi devo molto sicuramente a questa trasmissione e poi quando Federica è arrivata a condurre questa storica trasmissione del 2005, lei ha preso di petto la cosa con grande capacità e determinazione quando ci siamo conosciuti e poi piano piano è nata questa amicizia, lei ha capito, ha intuito come noi che non si trattava di una scomparsa come chiaramente faceva comodo a tutti, ma si trattava di un omicidio e che Danilo Vestivo era responsabile ed è andata avanti come un treno per tutti questi anni, prendendosi vi assicuro tantissime querele, ogni tanto viene a potenza a rispondere di qualche querela dei vari personaggi, dico io, degli squali, di figuri che hanno ruotato intorno a questa storia, che le hanno richiesto risarcimento in milionari per tutte le volte in cui lei è andata giù dura in questi anni e quindi poi tornando a quel 17 marzo, quando sono arrivato a casa e mio fratello era arrivato da mezz'ora, ho visto mio padre piegato sul tavolo e gli occhi di mia madre persi nel vuoto e lo specchio proprio deformato del tempo mi ha fatto tornare indietro a quel 12 settembre, ho rivissuto la stessa atmosfera, è solo che erano passati 17 anni e Lisa non c'era più, ma era come se fosse morta di nuovo quel giorno, è stato terribile davvero. Io vorrei se mi hai permesso ancora a mantenere su questo momento, su questo ritrovamento e anche sul luogo. Qual era il ruolo di questa Chiesa a potenza? Qual era il ruolo, per me mi chiede il ruolo del prete di cui tanto si è parlato e non mi mi sappia? E come la città ha risposto anche nel momento in cui vi è stato questo ritrovamento? Credo che qui c'è una chiave anche di lettura di quello che è la società, di quella che è la nostra cultura, a volte anche chiamiamola questa cultura della mafiosità che poi sulla quale si alimenta e forse può alimentarsi anche la grande criminalità, i depistaggi, silenzi, le omissioni, però vi sono anche delle omertà, vi sono anche delle cose che sappiamo e che a volte non diciamo. Io faccio sempre questo riferimento a Pasolini, i quali diceva io so, però non ho le prove. E quante volte noi anche nelle nostre realtà, nella nostra vita sappiamo, non abbiamo le prove, ma spesso tacciamo, spesso non diciamo, non abbiamo forse i luoghi dove parlare, non abbiamo i momenti, le opportunità, le occasioni. Ecco, io perciò ritengo questo libro importante e questa storia significativa, proprio un grande messaggio pedagogico, per noi, per la nostra comunità, abbiamo bisogno di recuperare forze, di recuperare energie e anche di speranza, perché a noi ci serve la speranza in questa cosa. Ecco, allora io ti richiedo, vorrei che tu cortesemente, sul ruolo della Chiesa, la Chiesa della nostra comunità, il cuore, l'anima dei paesi, il tutto, che cosa praticamente era questa Chiesa, che cosa rappresentava realmente oggi, qual è il tuo giudizio? Il mio giudizio è lapidario su quella Chiesa. La Chiesa della Trinità è nel cuore di potenza, era la Chiesa, l'ho sempre stata, della potenza bene, non è un mistero, era la Chiesa frequentata dall'establishment potentino, dovete sapere che il più grande frequentatore di quella Chiesa era Emilio Colombo, non perché è ancora vivente, ma perché la Chiesa, come sapete, ormai è sotto sequestro. Lo legava questa amicizia affettuosissima con Don Mimisa Bia, il parroco che per 40 anni ha tenuto questa Chiesa, una cosa stranissima, perché voi sapete che in genere una parrocchia, almeno soprattutto nel centro di una città, non viene tenuta per 40 anni dallo stesso prete, invece di lui era intoccabile, per ammissione stessa dei Vescovi, sia dell'ultimo Monsignor Superbo, sia di Monsignor Appignanesi, il Vescovo che l'aveva preceduto, l'hanno messo nei verbali, non avevano il controllo di quella Chiesa, perché Don Mimì non rispondeva al Vescovo, Don Mimì probabilmente rispondeva direttamente in Vaticano, quindi era il suo regno quella Chiesa, quella Chiesa era intoccabile e l'atteggiamento di Don Mimì, lo racconto nel libro, vi potrei raccontare mille episodi, uno fra tutti in occasione di un anniversario del 12 settembre, chiedemmo come iniziativa proprio di solidarietà, ma anche come segnale da parte di una Chiesa, perché l'odore di parrocchia in questa storia c'è sempre stato, si percepiva, era evidente e chiedemmo un segnale forte, cioè di far suonare tutte le campane il 12 settembre, l'unico che si rifiutò fu Don Mimì Sabia, le campane della Trinità non suonarono, ma questo è stato solo uno degli episodi, con mamma fu sempre sgarbato, lo racconto nelle pagine del libro, impedì spesso che qualcuno andasse a perquisire la Chiesa, l'ultima volta quando ci fu la perquisizione nel 2008, quando andarono poco prima della sua morte, perché lui è morto nel marzo del 2008, andarono qualche mese prima della sua morte con i georadar, che erano delle apparecchiature sofisticatissime in grado di rilevare all'interno di mura e anche di cemento armato eventuali resti umani, dovette intervenire direttamente il Vescovo per consentire l'accesso agli ufficiali di polizia e alla scientifica che doveva entrare con quei macchinari, quindi è chiaro, il segreto se ce l'aveva se l'è portato nella tomba, lo dico sempre, però la cosa strana, la cosa singolare è che negli ultimi anni, tant'è che nel 2008 vanno a verificare nella Chiesa della Trinità, purtroppo anziché salire fino al sottotetto della Chiesa, vanno giù nelle cripte che erano sotto la Chiesa e di questo non mi sento nemmeno di fare un rimprovero a chi nel 2008 fece questa scelta perché l'immaginario ovviamente collettivo fa pensare a un corpo che può essere nascosto ovviamente in una cripta, non certo chiaramente nel sottotetto, certo se qualcuno nel 1993 fosse andato immediatamente come io quella domenica pomeriggio, entrai nella Chiesa, mi fece aprire di forza la Chiesa perché poi domini Sabbia, per risolvere la Chiesa, è un'altra.